Marco Aurelio nei pensieri scrive a coloro che chiedono ancora dove hai veduto gli dèi e come hai constatato la loro esistenza che tanto li onori, puoi rispondere anzitutto essi sono visibili ai nostri occhi, in secondo luogo io non ho meglio veduto la mia anima e tuttavia la rispetto, ugualmente per gli dèi, per i segni della loro potenza che essi mi rivelano in ogni momento io so che esistono e li onoro, è vero? È vero se si riconosce che il divino non è visibile agli occhi dell'uomo ma al suo sentire. Grazie a tutti. Grazie a tutti.